Sarà una Virtus Franca Villa d'Assalto, quella che domenica pomeriggio la nuova Red Arena proverà a strappare i tre punti al Catania, una sfida in cui i Biancazzurri andranno alla ricerca del riscatto dopo il KO di Avellino, uomini quasi contati per Taurino, che in avanti si affiderà ancora alla coppia d'attacco Vissal Partenio, quella composta da Ventola e Perez, come noto Out Maiorino, e per i tifosi Biancazzurri sembra l'incubo della passata stagione, quando il tandem titolare Perez-Vasquez nel girone d'andata faticava a trovarsi alternandosi nelle assenze. Mastro Pietro però può essere il jolly pronto a far saltare il banco, candidandosi come possibile. Seconda punta a centrocampo Prezioso e Carella girano i lati di Ceccio, ha confermato in cabina di regia sulle fasce i soli di Pierno e Denian. Mettere in difesa ci sarà Ingrosso al posto di Caporale nel terzetto subito avanti a Nobile, è quasi una novità per la Virtus, giocare senza il suo numero 17 dal 2018 a oggi è successo soltanto 12 volte. Ha Ingrosso il compito anche di coprire un po' sul centro-sinistra, compensando le avanzate sulla corsia Mancina di Enian. Calcio d'inizio alle 14.30, la società Biancazzurra si aspetta il pienone per una sfida di cartello e che in passato, gol di Inzola e Sarao, ha regalato enormi e strepitose soddisfazioni.